Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di 5 misteriosi tesori perduti della seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale fu l'occasione per molti invasori di appropriarsi di ricchezze come bottino di guerra. Alcune di queste furono rubate e accumulate andando a costituire veri e propri patrimoni dal valore difficilmente stimabile, recuperati poi dai governi alla fine del conflitto. Alcuni tesori vennero però persi nel tentativo di sottrarli ai rastrellamenti dei concitati ultimi giorni di guerra. Per questo la storia di queste 5 gigantesche ricchezze ha alimentato la fantasia dei cacciatori di tesori per molti decenni. Il treno d'oro dei tedeschi Nel maggio del 1945 un terzo Reich, ormai morente, decise di trafugare il maggior numero di oggetti e preziosi dalla Polonia, in procinto di essere liberata dalle truppe sovietiche. I soldati tedeschi caricarono 300 tonnellate di lingotti d'oro provenienti dalla banca Wroclaw, documenti e altro materiale su un treno del quale si persero completamente le tracce. I ricercatori del secondo conflitto sostengono che il convoglio potrebbe essere lungo 150 metri, dotato di protezioni e cannoni automatici e, molto probabilmente, contenere il famigerato tesoro polacco. Il treno potrebbe valere a oggi circa 10 miliardi di euro. L'ubicazione del treno è però rimasta misteriosa per oltre 75 anni, dato che i tedeschi costruirono nei pressi di Valbrizic molti chilometri di tunnel sotterranei adatti anche a nascondere, appunto, un intero treno. Il progetto era denominato Ries, gigante in tedesco, ed era concepito per nascondere originariamente armamenti e truppe per proteggerli dai raid aerei delle incombenti truppe russe. Al progetto lavorarono oltre 13 mila prigionieri, ma non fu completato che in piccola parte a causa di un'epidemia di tifo e dell'imminente sconfitta nazista. La costruzione dei tunnel significò la morte per moltissimi di questi lavoratori a causa delle condizioni di malnutrizione, epidemie, nessuna sicurezza nei cantieri e delle vessazioni degli 853 membri dell'ESS che supervisionavano i lavori. Moltissimi dei lavoratori provenivano dai campi di concentramento ed erano in larga parte ebrei, ma anche prigionieri politici fra cui si annoveravano polacchi, greci, rumeni, cechi, olandesi, belgi e tedeschi. Quando un lavoratore diventava letteralmente consumato dal lavoro e dalla fatica, veniva spedito indietro ad Auschwitz, dove trovava la morte. A causa della mancanza di documentazione del progetto e dell'intricato sistema di tunnel, le ricerche, che più volte sembravano sul punto di svelare l'ubicazione del treno, si sono in realtà rivelate infruttuose sino a oggi. La camera d'ambra è una stanza nel palazzo di Caterina, a Carsco e Selo, a sud di San Pietroburgo, ricoperta interamente da sei pannelli di decorazioni, per complessive sei tonnellate d'ambra, ma anche foglie d'oro e specchi. La camera fu realizzata fra il 1701 e il 1709 da esperti artigiani russi, e il risultato fu così spettacolare che venne spesso definita l'ottava meraviglia del mondo. Durante il secondo conflitto mondiale, i tedeschi smontarono interamente la camera e la trasferirono a Königsberg, dove sparì nel nulla. Della camera vennero ritrovati diversi frammenti presso collezionisti privati di tutto il mondo, ma dove siano finiti tutti i preziosi al suo interno è a tutt'oggi un mistero. Nel 1976 fu ordinata la ricostruzione della camera e nel 2003 fu infine aperta al pubblico. La storia del suo furto è alquanto interessante. Nel settembre del 1941 il palazzo entrò in possesso del Terzo Reich, con i sovietici che non riuscirono ad asportare in tempo i pannelli della stanza. Per evitare che fosse trafugata, la camera fu camuffata con dei pannelli di carta da parati, ma gli occupanti scoprirono ben presto l'inganno. Il 18 ottobre del 1941 i tedeschi smontarono i pannelli in sole 36 ore, spedendoli poi a Königsberg, dove vennero esposti insieme alla collezione di Prussia. Un incendio del 1944 costrinse i tedeschi a smontare la camera, che fu poi riposta nei sotterranei del castello. Durante quell'anno il castello fu bombardato dalla RAF, ma, sembra, la camera non venne danneggiata se non parzialmente. Dal 1945 se ne persero completamente le tracce, anche se viene ritenuto altamente probabile che la camera si trovi ancora negli angusti cunicoli del castello, dei quali non esiste una planimetria. Sul rudere della fortezza venne costruita nel 1968 la casa dei soviet, ma anche in quell'occasione della magnifica stanza non fu trovato nulla. Gli unici pezzi originali oggi ufficialmente pervenuti al governo russo sono un komo e un mosaico, che furono sequestrati dalla polizia tedesca nel momento in cui finirono all'asta sul mercato grigio dell'arte nel 1997. L'oro di Yamashita Per finanziare le ingenti spese delle campagne militari durante la Seconda Guerra Mondiale, l'allora imperatore del Giappone, Hirohito, e il governo giapponese ordinarono il saccheggio di massa del sud-est asiatico. Il fratello dell'imperatore fu messo a capo di un'organizzazione segreta chiamata il Giglio d'Oro, appositamente creata con lo scopo di trafugare il maggior numero di preziosi possibile. Queste tesi sono sostenute dai coniugi Seagrave, che hanno pubblicato i libri La dinastia Yamato, la storia segreta della famiglia imperiale giapponese nel 2000, e Guerrieri d'Oro, la scoperta segreta dell'America dell'oro di Yamashita. Il nome del tesoro, conosciuto come l'Oro di Yamashita, proviene dal generale Tomoyuki Yamashita, comandante in capo delle truppe giapponesi che conquistarono la Malesia e Singapore e responsabile delle operazioni nelle Filippine. Yamashita venne condannato a morte dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e fu giustiziato il 23 febbraio del 1946 nelle Filippine. Secondo le fonti ufficiose, il tesoro venne trasferito dal sud-est asiatico, prima a Singapore e poi nelle Filippine, con lo scopo di essere poi spedito in Giappone. Le perdite subite dalla flotta nipponica non consentirono il trasferimento del tesoro, che rimase quindi nascosto nelle isole filippine anche dopo la fine della guerra. In seguito alla resa del Giappone, le teorie riguardanti la fine del tesoro seguono due strade separate, entrambe legate a scopi di finanziamento politico-militare. Le teorie potrebbero anche essere interpretate in una visione d'insieme che le comprende entrambe. Prima teoria Il tesoro sarebbe stato localizzato dagli statunitensi, i quali, in accordo con il governo giapponese e lo stesso Irohito, utilizzarono i guadagni della vendita dei preziosi per finanziare i progetti bellici della guerra fredda. Seconda teoria, complementare alla prima Il tesoro fu ritrovato, almeno in parte, da Rogelio Rojas, nei pressi di una città chiamata Baguio, dove scoprì una camera con lingotti d'oro, una statua di un Buddha d'oro e altri oggetti, fra cui spade di samurai. La camera si trovava su territorio statale e fu anche la tomba per alcuni soldati giapponesi, ritrovati in forma di scheletri all'interno delle loro uniformi. Rogelio aveva preventivamente ottenuto il permesso di ricerca dal giudice Pio Marcos, quando si stava muovendo nei limiti della legge. Rocas prese il Buddha e una cassa di lingotti, vendendo l'oro e cercando acquirenti per la statua. L'ex presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, scoperta l'attività di Rocas, ordinò l'arresto dell'uomo, appropriandosi del tesoro di Yamashita. Rocas rimase in silenzio fino al 1986, anno della caduta del governo Marcos, quando fece causa presso un tribunale delle Hawaii all'ex presidente filippino, accusandolo di furto e violazione dei diritti umani. Nel 1996, a riprova dell'esistenza del tesoro e dell'effettivo ritrovamento da parte di Rocas, il tribunale decretò che fossero versati alla Golden Buddha, l'azienda detentrice dei diritti sul tesoro, e alla famiglia Rocas, che nel frattempo era deceduto, la somma di 22 miliardi di dollari, che vennero poi rivalutati a ribasso in funzione della non completa conoscenza del tesoro scoperto. Il tesoro di Yamashita potrebbe quindi essere stato del tutto o almeno in parte scoperto da Rocas, il quale fu derubato da Marcos. L'esistenza di questo tesoro ha alimentato le speranze da parte dei cercatori di tesori e dei loro finanziatori, che però potrebbero essere stati preceduti dai governi interessati, Stati Uniti e Giappone, nell'appropriarsi del prezioso bottino. Il tesoro dell'Auamaru L'Auamaru era un transatlantico giapponese di proprietà della Nippon Yusenkaisha. La nave fu costruita fra il 1941 e il 1943 dalla Mitsubishi Shipbuilding and Engineering a Nagasaki, progettata per il servizio passeggeri, ma all'inizio della guerra decretò la modifica dell'imbarcazione, che fu requisita dalla marina giapponese. Nel 1945 l'Auamaru fu impiegata come nave di soccorso della Croce Rossa, per trasportare i rifornimenti ai prigionieri americani in custodia ai giapponesi. In base ai trattati di guerra, avrebbe dovuto percorrere rotte di navigazione sicura, in modo da consegnare i carichi senza problemi. Il 28 marzo del 1945 partì dal porto di Singapore, non prima di aver caricato un immenso numero di oggetti. La nave fu inizialmente osservata mentre veniva riempita di sacchi di riso, ma poi, col favore delle tenebre, fu scaricata e ricaricata con materiali di contrabbando non meglio identificati. Alcuni ufficiali parlarono di 40 tonnellate d'oro, 12 di platino e 150.000 carati di diamanti. Gli scettici affermano invece che fu caricata soltanto con nichele gomma. Il suo viaggio è legato anche all'ultimo avvistamento dei fossili dell'uomo di Pechino, che sparì misteriosamente proprio in quei giorni. La Awamaru fu intercettata il primo aprile nello stretto di Taiwan da parte del sottomarino statunitense USS Queenfish, che la scambiò per una caccia torpediniere e la silurò affondandola. Solo uno dei 2004 passeggeri e membri dell'equipaggio, Cantora Shimoda, sopravvisse. Era lo steward personale del capitano, e per lui fu la terza volta in cui risultò l'unico superstite di una nave silurata. Il comandante del Queenfish, Charles Elliot Luffin, fu condannato dalla corte marziale statunitense, ma ne uscì soltanto con un'ammunizione. Nel 1980 la Repubblica Popolare Cinese finanziò un progetto di recupero della nave, convinta di poter scovare il tesoro perduto. Le operazioni si rivelarono infruttuose e, sfortunatamente, il tesoro non fu mai recuperato. Il tesoro degli ebrei di Salonico Max Merten era il responsabile dell'amministrazione tedesca a Salonico, la città greca con la più grande comunità ebraica del paese, il quale fu a capo di atrocità e crimini mostruosi. L'uomo rastrellò circa 50.000 persone nella zona, inviandole a una prima tappa di lavori forzati in Grecia. I prigionieri avrebbero poi seguito le vie ferrate sino ad arrivare ai tristemente celebri campi di concentramento in Polonia e in Germania. Merten, durante i suoi rastrellamenti, aveva accumulato una fortuna di oltre 2 miliardi di dollari, che non aveva alcuna intenzione di spedire a Berlino. I preziosi erano costituiti dalle proprietà degli ebrei imprigionati, ma anche dalle offerte pervenute per chiedere la scarcerazione delle persone care. Merten decide a quel punto che il Terzo Reich aveva sufficiente denaro per continuare la guerra da solo e spedì, mediante un sottomarino, il tesoro nel Peloponneso. Qui, l'immenso bottino viene caricato su un peschereccio, il Sofia, e fatto affondare in una zona di cui Merten annota nella sua mente le coordinate, compresa fra le due dita del Peloponneso che si trovano fra Porto Caglio e le isole Inusse. La Seconda Guerra Mondiale era quasi finita e, nella confusione di quei giorni concitati, Merten riesce a fuggire in Germania. Qui, l'ex comandante attende che la situazione politica si calmi, soprattutto a causa della guerra civile che si sta consumando in Grecia, per tornare a recuperare il tesoro con tutta calma. Il momento propizio gli sembra durante il 1958, ma sbaglia il tempismo. Max Merten viene riconosciuto e arrestato, e finisce nelle carceri greche per i suoi crimini di guerra. Una volta in cella si confida con il suo compagno, sicuro che la propria prigionia sarebbe durata molto a lungo e che l'altro non avrebbe svelato il segreto perché è condannato a decenni di carcere. Merten viene invece scarcerato dopo solo un anno e torna alla vita civile in Germania, diventando avvocato e dimenticando tutta la vicenda. Muore nel 1971. Il prigioniero però non dimentica il tesoro e, alla soglia dei 60 anni, ne parla con il proprio avvocato, il quale contatta Grigori Kulbanis, un subacqueo che aveva lavorato a lungo con Jacques Cousteau. Il Fantasma X, il prigioniero di cui non venne mai svelato il nome, vuole un quarto del bottino in cambio delle coordinate. Il subacqueo si mette quindi al lavoro, ma le autorità greche avanzano immediatamente pretese sul tesoro. Il 50% del bottino va allo stato greco, che è competente sul territorio dove è affondata la nave. Agli ebrei di Salonico sarebbe destinato soltanto un quarto delle ricchezze loro spettanti, un'ennesima ingiustizia ai danni di una comunità vessata dalla storia. Il subacqueo, che completa diverse immersioni per cercare il tesoro, non riesce però a trovare nulla, anche perché le acque di questo tratto di mare sono profondissime e, a poca distanza, si trova il punto più basso del Mediterraneo, la Fossa Calipso, a oltre 5.000 metri di profondità. Il governo greco organizza anche altre spedizioni, sostenute anche da altre parti interessate, ma la nave non viene mai ritrovata. Per il tesoro degli ebrei di Salonico è quindi ancora caccia aperta.